buongiorno a tutti i miei cari eccoci di nuovo insieme qua sul mio canale youtube spero che vi piace tutte le cose che io li faccio per voi tutti e vi piace a parte questa cosa che vi lo faccio io oggi vedere a voi tutti lasciate un like o iscrivetevi al mio canale oggi ho preparato una cosa speciale per voi una cosa che l'ho imparata della mia nonna che mia nonna era diciamo strea è una cosa interessante con uno bicchiere di acqua e una candela a parte questo vi ho preparato un simbolo delle rune tutte le persone che mi guardate e volete disegnare o volete stampare questo simbolo delle rune un simbolo di protezione per le vostre case per la vostra amore per vostri soldi ok questo simbolo voi lo potete mettere su un perete avanti a vostra porta della entrata principale di casa perché vi porterà un grande fortuna un grandi desideri si fanno veri avrate prosperità abbondanza in casa tranquillità pace tutto ciò che volete io l'ho preparato speciale per voi per tutte le persone che mi state seguendo qua sul mio canale sul mio gruppo spero di cuore che funzionerà lo potete attivare scrivendo indietro nome e cognome vostro e data di nascita e anche due o tre desideri diciamo così no allora questo simbolo vi dico io che vi porterà un grande fortuna lo potete disegnare proprio come qua che si vede bene o lo potete stampare dipende di voi de lo volete fare vi proteggerà anche delle blasfemi di tutte cose brutte adesso mi cari io vi voglio presentare una cosa che vi ho detto l'ho imparata della mia nonna in tre variante per le persone che vi interessa questa cosa che diciamo che vi mettete le risposte per amore per soldi io questa cosa lo faccio in tre variante tutte le persone che vi scelette prima seconda o terza variante fermate questo video e iniziate già a scegliere io praticamente vedete qua cielo una candela di colore arancione lo faccio già dare fuoco e tutta la cera che mi esce in bicchiere io vi dirò tutto ciò che esce per prima variante vediamo un po mi cari ok lo spengo perché qua si tratta di amore per prima variante tutte le persone che ha scelto diciamo vi siete pensati in amore perché c'è lato di amore e di soldi e di salute vediamo un po che esce qua qua tante persone che ha scelto questa variante siete un po separati un po lontanati della coppia anche della famiglia diciamo che siete un po affredati uno con altro no ne siete in coppia avete un po di questi problemi di po un po di incompressione però di colpa di altre persone che sono in esterno della vostra casa non c'entra niente che voi litigate o siete un po disturbati di voi stessi perché le vostre disturbi ci sono altre persone che sono fuori della vostra casa avete persone che vi stanno invidiando la vostro matrimonio diciamo così vostro legame di amore dei sette finanziati problema è che io vi dico così le persone che ha scelto questa variante non vi dovete lasciare influenzare né di amici né di famiglia di niente perché altrimenti sarà un separazione ok e non credo che sarà bene perché adesso state bene così pensate o non succede niente però dopo la cera qua mi sta indicando fatto che potete soffrire vediamo adesso un po per soldi per la prima variante in amore vi ho detto state attenti delle influenze negative vediamo un po per soldi che vi sta uscendo per soldi mi cari qua si vede soldi che voi aspettate soldi da parte da istituzione di stato da banche o da qualcuno che vi ha chiesto ha chiesto voi scusate questi soldi in prestito ma avete da aspettare un po o ci avete una causa in tribunale e volete vincere questa causa io vi dico che questa mese perché c'è anche l'eclissa di sole in 10 sarà un risultato positivo per tutte le persone che ha scelto questa variante prima variante per soldi riesce in aspettare dovete aspettare per una risultata positiva lo avrate ok e vediamo per salute vediamo la salute che succede anche due gocce di cera anche per voi con vediamo la salute e qua qua mi cari mi esce tanto tanto stress perché le gocce sono entrate una in altra questa che significa o che siete stressati in ambito di lavoro in ambito di famiglia in ambito di sentimenti dovete stare attenti con questo stress perché la immunità vi scende diciamo così e dopo siete siete disposti a prendere tutte le malattie anche freddamenti anche no perché quando la immunità non va bene però questa non è una malattia diciamo che lo avete ereditare o che vi l'ha mandato qualcuno o che lo avete voi è tutto basato sul stress devi stressate tanto e non vi rilassate un po siete in rischio da avere una grossa malattia perché da stress inizia tutte le cose brutte nelle nostre vite io vi dico state un po' attenti con la vostra salute perché non siamo attenti con noi stessi e con la nostra salute ne stressiamo tanto possiamo avere problemi dopo tutti i soldi di mondo non li può risolvere questa è già stata per prima variante adesso iniziamo con seconda variante in amore vediamo un po' per seconda variante in amore chi ha scelto seconda variante qua in seconda variante c'è un unione un grande passione un grande amore un grande unione diciamo che ogni tanto siete un po' caratteri differenti cioè differiti scusate però io vi sto dicendo che qua è una coppia unita una coppia stabila una coppia che vive già insieme che siete coppia di matrimonio che siete finanziati vivete insieme c'è un grande amore un grande rispetto un grande stabilità per voi che ha scelto seconda variante vi esce bene in amore no? dei sette soli troverate una persona che vi porterà un grande satisfazione perché qua vi sta uscendo una stabilità vediamo adesso anche per soldi che vi esce a voi seconda variante con questa metoda che io l'ho imparata della mia nonna anche per voi cioè per soldi vi esce che avete un affare o volete fare un affare o volete trovare un lavoro che sarà bene non che non ci avete per niente soldi però volete avere di più e la cera mi sta indicando il fatto che si avrate mese prossimo una grande prosperità una grande fortuna per tutte le persone che ha scelto questa seconda variante vi esce bene in ambito di soldi vi è successo in affari vi è successo in ambito di lavoro in qualsiasi cosa voi volete fare o che avete un affare proprio vi esce bene mi cari io vi dico in bocca al lupo bella fortuna per voi vediamo un po' anche per salute che vi esce a voi per seconda variante con questa bella metoda che non l'ho mai fatto fino adesso qua purtroppo ci sono problemi di salute non ci sono problemi per via di stress ma ci sono qualche problemina c'è in salute che siete uomini o siete donne o avete problemi con stomaco o con reni o con le ovaie dovete stare un po' attenti come mangiate come vi prendete un po' cura di voi io vi sto indicando il fatto che dovete andare a farvi un po' di analise di sette donne sicuramente avete un po' di problemi di tiroide perché qua si vede un po' di disequilibri ormonali vi auguro di cuore tanta salute spero di cuore che trovate le cure ben precise se non volete trovare medicina alternativa andate a trovare la medicina naturista non ci avete fiducia è vero che con questa pandemia di covid siamo tutti un po' giù per andare a dottore però qua io vedo che qualche analise lo dovete fare va bene? e vediamo per terza variante, mi cari in amore per terza variante in amore vediamo un po' che esce qua purtroppo si parla di trio non per tutti che mi state seguendo può stare questa cosa qua però io dico che qua c'è un tradimento che siete in copia di matrimonio che siete in copia di finanziamenti che siete all'inizio di una relazione dovete stare attenti che sarete traditi tradite o la persona che voi lo avete in cuore o avete un grande fiducia per lei vi tradisce andrà a e voi scoperte questa cosa vi esce fuori vi scoprite e rimanete troppo male per questo tradimento or voi stessi avete un amante diciamo così però sofferenza c'è perché anche questo amante anche voi vi amate però lui è sposato voi siete sposata è un relazione un po' misteriosa diciamo così per terza variante esce così in ambito di amore comunque dovete stare attenti anche che la cuore noi puoi ordinare vediamo per soldi per terza variante qua per soldi anche qua ci avete problemi perché tante persone che vi trovate in questa variante ci avete problemi di soldi diciamo così vi confrontate con problemi economici grandi non lo sapete di dove dovete trovare soldi siete stati un po' aiutati in passato probabilmente di familiari di amici chi so io però qua siete un po' aspettare di soldi qualcosa si muove anche per voi diciamo un piccola fortuna però non vi aspettate a chissà che qua mi mai dice il fatto che voi dovete stare un po' più precisi nelle cose che li fate perché siete un po' più confusi confuse ed non prendete una decisione non vi aspettate che scende di universo Dio e vi fa questa fortuna è il senso che la carta la carta noi la carta la cera vi sta indicando il fatto che voi dovete spingervi da solo avere la volontà a fare le cose altrimenti niente non cambia vediamo anche per salute come state voi in la vostra salute per terza variante che ha scelto e che scegliete in salute io non vedo problemi grossi da voi probabilmente un po' di mal di schiena un po' di gonfiori di piedi state tanto in piedi non dormite qua vi esce che voi dovete dormire di più vi dovete rilassare di più non siete così troppo stressati però o siete un po' ingrassate ingrassate e avete preso un po' di peso o avete un po' di problemi diciamo un po' con sangue sangue un po' più grosso diciamo così non è niente di grave qua però vi dice qua che dovete stare un po' attenti anche voi in ambito di salute senza cose grossissime state bene questo è importante allora io spero che vi è piaciuto questa metoda che la mia nonna mi le imparava a me quando io eravo piccola io lo seguivo e vedevo tutto ciò che fa lei e piano piano l'ho imparato anche io questa è una nuova metoda che vi l'ho fatto vedere anche a voi tutte le persone che vi siete trovati su prima seconda terza variante vi prego di corre lasciate un like sul mio video io mi fermo qui vi abbraccio di cuore vi voglio tanto bene sia che l'universo sarà con noi tutti e tutti i nostri desideri si fanno veri vi bacio e vi abbraccio di cuore ragazzi ci vediamo prossima volta arrivederci vi abbraccio di cuore vi abbraccio di cuore